che è per cosa sono le pregate rosse. È un libro che è uscito nel 2004, più di 10 anni, secondo me contiene ancora i punti chiave delle verità. Non è mai stato smentito quello che io ho detto e continuo a ripetere tranquillamente. Sono alcuni aspetti, uno, il numero di chi ha partecipato all'attuale. Io ho fatto un aggiornamento e lì l'ho trovato nel libro in maniera precisa. Ho fatto un aggiornamento molto semplice. Io ho partecipato e ho anche sono stato uno degli ideatori e neanche negli esibitori del sequestro Sossi, che era un registrato e un sequestro.